Ci troviamo in un bosco, quindi abbiamo una bell'aria molto fresca, salutare e pura. Sono Francesco Casucci, proprietario e chef dell'Angolo del Bosco. Offriamo ai nostri clienti vasta scelta di menù. Andiamo dai menù di pesce, menù di carne, arrosti, pizze, c'è tutto. Creiamo tantissimi eventi, abbiamo doppie strutture per poter festeggiare eventi personalizzati in qualsiasi modo, per qualsiasi circostanza e qualsiasi ricorrenza. Vi aspettiamo ad Acquaviva delle Fonti in via Contrada San Martino per degustare i nostri piatti. Grazie a tutti.